Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di un'opportunità un'opportunità che è davvero molto pratica per voi che mi state ascoltando penso di qualsiasi età, soprattutto magari persone tra i 18 e i 24 anni che vogliono imparare magari a programmare, a fare un'applicazione oppure vogliono imparare a disegnare, vogliono delle video lezioni sul marketing senza fare dei corsi online o corsi ovviamente in aula e spendere una fortuna ho trovato davvero una piattaforma che sottovalutavo, poi l'ho studiata e per questo ve ne voglio parlare stavo appunto vedendo su Udemy la possibilità di acquistare diversi videocorsi a meno di 15 euro e soprattutto di avere non solo un prezzo vantaggioso ma di trovare qualsiasi cosa voglio è un vero e proprio marketplace di video lezioni, videocorsi che possiamo poi vedere stesso sulla piattaforma interna e il bello è che ci sono anche le recensioni e le votazioni di tutti quelli che hanno acquistato e fatto il corso per esempio quello che vedete qui è una masterclass su After Effects ma troviamo anche videocorsi per principianti corso completo di illustrator con votazione 4 e 118 feedback il bello di questo Udemy poi comunque nella descrizione vi lascio il link a questa landing perché questa landing raggruppa un po' quelle che sono tutti i corsi più acquistati e soprattutto in offerta è che prima di acquistare un videocorso del genere abbiamo comunque delle informazioni preliminari che ci permettono magari di non cadere in sbaglio per esempio questo concorso completo di illustrator è fatto da ben 93 lezioni cioè stiamo parlando di 93 lezioni video a 11,99 euro e vi assicuro che si possono imparare tantissime cose da un videocorso sia per questioni lavorative ma anche per hobby per avviare un'attività digitale online c'è una piccola prefazione di cosa si imparerà i requisiti e una piccola descrizione e tra l'altro poi ci consigliano anche gli altri corsi che hanno acquistato prima di aggiungerlo al carrello posso praticamente vedere quella che è una piccola anteprima sul videocorso vediamo, questo è da un italiano ma ci sono anche tanti videocorsi in inglese ancora migliori andiamo avanti quindi da qui possiamo già capire se può convincerci un corso del genere ad esempio vi faccio vedere che ho acquistato un corso di SEO 2019 con degli ottimi feedback di un italiano l'ho acquistato perché nella barra di ricerca ho scritto SEO e ho trovato che questo era uno dei corsi più gettonati allora vediamo, questa è la nostra piattaforma di studio quindi Udemy che ci permette di avere tutti i videocorsi sempre a portata di mano possiamo utilizzarli dove vogliamo noi e questa è la sezione dei vari videocorsi ad esempio qui viene spiegato con l'introduzione 10 anni di SEO in 29 minuti la struttura del corso in 12 minuti abbiamo poi anche le slide per seguire magari la presentazione o fare un approfondimento in un secondo momento e qui poi c'è tutta la scaletta, le origini del SEO, l'evoluzione della SEO ovviamente aggiornato al 2019 ad esempio questa è la presentazione in PowerPoint che possiamo utilizzare mentre praticamente stiamo seguendo il video magari anche da un'altra piattaforma poi qui ci sono le regole di scrittura del SEO, le regole della pubblicazione, le analisi poi addirittura c'è la sezione 2, c'è la sezione 3 c'è davvero completo 11 euro, sicuramente imparerò tante cose sul SEO che prima non sapevo piuttosto che pagare 200 euro, 1000, 2000 euro per un corso sicuramente l'approccio da vicino è diverso ma vi assicuro che è un'ottima metodologia ho imparato tante cose con questi videocorsi online oltre alla ricerca per parole chiave per esempio ok, voi dovete fare un progetto a Arduino scrivete a Arduino e vedete di trovare un buon videocorso avete quelle che sono le categorie quindi non è che troviamo soltanto videocorsi di IT e software sull'hardware, sulle certificazioni e tanto altro ma abbiamo anche corsi sul marketing abbiamo corsi su stile di vita, fotografia ad esempio anche sul business, sulla strategia di vendita ad esempio la vendita persuasiva e tanto tanto altro cioè ve lo sto proponendo con il massimo della trasparenza e sincerità perché come minimo acquisterò 10 corsi da questa piattaforma se volete potenziarvi ad esempio magari volete sviluppare un'applicazione iOS potete acquistare un corso o più di un corso e vi assicuro che se il videocorso è fatto bene voi potete imparare tante cose direttamente da casa senza andare a seguire un corso che magari è in un'altra città che ha dei costi elevati sia per quanto riguarda il trasporto che il costo del corso in sé è un ottimo approccio iniziale sicuramente magari non il migliore approccio ma un approccio economico che potete fare da casa nella descrizione vi lascio il link alle offerte della pagina offerte di Udemy vi assicuro che non ve ne pentirete anzi fate così, se acquistate un corso lo fate voglio assolutamente un feedback in questo video e nella descrizione voglio anche lasciarvi il link al nostro canale Telegram perché prima di fare questo video noi ve le avevamo già proposti lì alcuni dei corsi più che potrebbero essere interessanti in questo 2019 e soprattutto quelli con maggiori feedback positivi per ora questo è tutto vi ricordo di seguirci anche su Instagram scrivendo chiocciola guida informatica dove pubblichiamo tante storie e tanti meme in merito alla tecnologia davvero molto divertenti un saluto a tutti da Stefano e alla prossima